We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Straordinario ospite Rudy Rotta, davvero tanti aneddoti, non tutti siamo riusciti a concentrarli nel nostro spazio tv e allora è per questo che vi invito a visionare il nostro canale youtube, Video Top It lì trovate immagini e documentazione esclusiva da vedere e come da vedere il finale per questa puntata con il collettivo Salentino che torna dopo il tormentone estivo di Chiappa Lu Zinzale fa assaporare tutte le sfaccettature e i colori del Salento con un miscuglio variegato di generi che abbraccia il pop, il reggae, l'ipop, l'elettronica e gioca con liriche miste tra l'italiano e il dialetto alternando momenti di coinvolgente ironia, dolcissime parentesi romantiche il collettivo Salentino è composto da quattro amici Carlo Carletto Nicoletti, Fernando Proce, che saluto speaker e DJ di Radio RTL 125, i fratelli Carlo e Nico Varienti abbiamo preso ad esempio questo motivo per rappresentare tutti quelli che ritornano dai propri cari per passare le festività natalizie in ogni parte del mondo Natale in Salento, questo è il titolo ma potrebbe essere Natale in ogni dove Natale con i tuoi, perché poi si sa Pasqua ma è un altro discorso e allora con i migliori auguri di buon Natale e buone feste a tutti voi ci vediamo per l'ultima puntata targata 2014 la prossima settimana qui a Video Top Top E mi manca lo sole E mi manca lo mare E mi mancano tutte C'è cose buone C'è mangiare E mi mancano gli olivi E quell'ombra che fanno A casa mia nel Salento Estate tutto E mi mancano l'ombra che fanno E mi mancano le olivi Se volete mangiare, mi manca la gente, si muccete il decore, la casa mia nel salotto, estate tutto l'anno.